e quindi cambio per il Milan, esce con il numero 8 Zan Benedicic, entra con il numero 16 Cristian Maldini e fa sempre piacere nominare e vedere in campo in maglia rossonera un erede della grande dinastia Maldini che tanto ha fatto e tanto ha vinto in maglia rossonera prima Cesare, poi Paolo, adesso in campo con la primavera rossonera Cristian Maldini, dunque ancora proprio Maldini che prova ad andare via sulla destra, viene fermato rimessa laterale, Maldini per Baricic, si prova a distendere ora la Ternana la chiusura di Rondanini, Maldini alleggerisce su Mastalli, Mastalli che poi va giù fallo per Albanese, c'è Tamas su di lui, la palla dentro, Andrenacci la lascia lì per fortuna non ci sono altri giocatori della Ternana l'aveva perso Andrenacci in modo non perfetto dunque successo importante, positivo che porta il Milan a tre punti ancora, mantiene il distacco a più di un minuto e mezzo nel recupero Maldini ancora Maldini che tiene palla guadagna poi bene la rimessa laterale rimessa laterale che sarà affidata allo stesso Cristian Maldini tende un compagno vicino, poi preferisce andare profondo bene da Baric, andare al tiro, Fabbro apre poi per Cristian Maldini che può mettere giù questo pallone lo mette in mezzo morbido, non lo trova Rondanini palla ancora buona al limite, sempre Fabbro grazie a tutti